Sì, sei incredibilmente forte. Mi devi dare qualche risposta. Prima le tue teorie. Ho preso in considerazione i ranni radioattivi e la kriptonite. È roba da supereroi, eh? E se io non fossi l'eroe? Se io fossi il cattivo? Io so cosa sei. Dillo. Un vampiro. Hai paura? No. Non è possibile. Nel mio mondo sì. Voglio solo provare una cosa. Il sorvegliante giù alla fabbrica è stato ucciso da un animale. Da un animale? Noi siamo diversi dagli altri della nostra specie. Hai portato uno spuntino. Mi inseguirà per sempre. La caccia è la sua ossessione. Non si fermerà mai. Preferirei morire che stare lontana da te. Farò qualunque cosa perché tu sia al sicuro. Tu sei tutta la mia vita adesso. Noi si fermerà mai. Noi sicuro. Noi, le